Buongiorno, sono il professore Domenico Ardito dell'Istituto Tecnico Antimedia di Catania, sono qua alla Rome Cup 2012 con la dirigente del mio istituto, la professoressa Romana Romano. Abbiamo qui portato alcuni esempi della nostra produzione di robot, abbiamo il robot Marti, che è un robot di misura naturale, 1,60 m, con la possibilità di muovere le articolazioni delle spalle, delle gomino, delle mani, dei piedi, il collo, la bocca, gli occhi. Inoltre c'è un sistema anche di riconoscimento vocale con azionamento in modo che lui, quando riconosca la voce, si esegua dei movimenti sincronizzati. Ho qui portato anche del robot Marti i schemi progettuali a punto di vista meccanico ed elettronico. Questo è lo disegno della testa, a punto di vista meccanico, con tutti i particolari. Questo è il disegno della mandibola, questo è il terno del collo. Questo è un circuito che praticamente riconosce le varie frequenze musicali e quindi in base alla frequenza, alla pallambeggiare dei led, distinguendo. Questo è un circuito che collega il riconoscimento vocale con l'azionamento dei motori. Questi sono altri dettagli costruttivi per quanto riguarda la parte appunto meccanica e questo è appunto anche un altro schema di questo. Questo invece è il disegno per quanto riguarda la dimensione del collo delle spalle con tutte le forature. Sono Romana Romano, dirigente scolastico dell'IT Archimedia di Catania. Il nostro istituto è stato selezionato fra le 61 scuole d'eccellenza d'Italia e a proposito di questo, avendo la possibilità di distribuire dei premi ai ragazzi che eccellono, abbiamo realizzato la convenzione con Mondo Digitale per partecipare a questa manifestazione e dare a questa manifestazione questa opportunità per i ragazzi vincitori.